sii ma che cazzo di parola? si è fatto? ho interrotto alla fine la canzone sono un furbetto ci monta tutta la live come va? come va? ho stoppato e ho aspettato quindi lo sai quando finisci baluardo? che parola particolare? eh si fa come baluardo ha detto davvero baluardo e niente e niente fammi aprire rainbow six io non ho scritto paduani in mezzo insomma paduardi paldurani ciao ciao amici ben trovati nella live dei termofilosofi questa sera si parlerà questa mattina si parlerà di questa sera di questa mattina si parlerà di questa sera questa mattina si parlerà di paradossi iniziamo subito questa frase è una bugia va bene wow bravo perché dosso non è un portiere quindi che para cioè nel senso io non mi ricordo nessun portiere di nome para di nome dosso ma c'è il signor stinco abbiamo visto gli operatori ah no non devo neanche sistemarvi il corpo devi fincare le mani oggi battere le dita e umore alto tutta la vita però non mi ricordo se era questo l'ordine si si abbiamo visto degli operatori italiani mettono gli operatori italiani con la mappa italiana e con la modalità zombie che a quanto pare non è lo schifo che pensavo io che non dovrebbe essere zombie tra l'altro vabbè si è un'infezione si gioca in tre e dura solo quattro settimane poi la tolgo quindi va bene alla fine una specie di evento da quando la spiegavano dicevano quattro settimane un evento di quattro settimane tristezza se invece avessero lasciato la modalità zombie come in COD mi avrebbe fatto cacare ma no è una missione come quella che c'è già si e non laggare morelli non ho capito bene gli operatori italiani di che cosa sono di che noi ipotizzavamo carabinieri o quell'altro che diceva a moro che non mi ricordo più qual è la sigla eh ci sono o i colmoskin oppure ci sono i goi che sono i carabinieri la porta speciale dei carabinieri non l'hanno detto mi pare mentre parlavo oppure ce n'era un altro con un nome sempre di merda ma quella più probabile sono i carabinieri che hanno i goi e basta il gis ah il gis il gis e le carabinieri ah lo hanno detto ah il gis che cacchio era non mi ricordo e comunque finalmente siamo riusciti ad arrivare anche noi su rainbow i goi ci sono anche comunque potete partire allora in otto ringrazio intanto intanto ringrazio il gatto sul tubo ah per il ride perché ci ha ride dato perché ci ha ride dato bestwolf per la subscribe coi due sul server minwen grazie mille grazie mille si è quello sul server è la modellazione mi è uscito dal del vostro coso anche a me anche a me ah però mi è partito la modellazione la chatta fin steve sirius 94 rand 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 anche era era già di ieri penso si ma fosse già di ieri intanto volevo dire visto che oggi inizia ufficialmente la settimana di amazon wow comunque di altri negozi del black friday la week to black friday però noi parliamo di amazon se volete fare qualche acquisto volete anche supportarci esatto in qualche modo basta semplicemente che acquistate da questo link dal nostro wow che vedrete prima della nostra spiegazione magari chi non riesce a supportarci ma vuole comunque supportarci basta solo quello basta cliccare su quel link poi andate a comprare tecnicamente se voi accedete da quel link su amazon per due giorni siete tra virgolette collegati a noi panne se non gioco da un mese e mezzo quindi si sono rimasto argento 2 ma sono sempre rimasto argento 2 sta divisa sta come si dice questo mese questa stagione i col moschini dovrebbero essere la ah è giusto si vede dovrebbero essere la cosa la no no a me si vede è vero e beh si non puoi mettere i link con il canale di thermos perchè non si può ma va ma che storia e come facciamo ecco il bot lo metto io eh si mettilo nel bot eh tecnicamente ho accettato beh ancora riavvia il gioco guarda l'ho messo io io lo vedo adesso ok ah no ci sono ci sono e vedete ah solo da telefono non lo vedo no? ah ok io adesso non vedo la barra cioè vedo la barra grigia ma non c'è il counter e tutto vabbè ma è una cosa normale qui oggi in caso per i subscriber c'è già il link sul canale telegram e adesso lo rimetto che parte ditemelo parte di tempo su Rainbow Six sono già partito vero l'hacker coreano o mi intriga? ah c'è la barra c'è la barra qui senza il numero di canale l'hacker coreano mi intriga potrebbe essere cosa fa l'hacker coreano? disattiva le telecamere quando passa da quello che ho capito una specie di mute sulla schiena che funziona quando passa lui però devo capire bene devo vedere qualche video appena ci sarà poi c'è lui sto telecamere che è camper tipo però credo non funzioni quindi facciamo prima tutti a chiudere il play e tutto che due coglioni però eh che due coglioni stai calmo esperi tu no no che due coglioni eh esperi tu stai calmo oh no che due coglioni no che due coglioni no che due coglioni che spacco l'affatto no che due coglioni no che due coglioni no che due coglioni eh capito la tutta questione è andata guarda non l'ha fatto eh che fa si diventa invisibile ai droni però sembra abbastanza abbastanza interessante ah ok Antonio Pastori ormai è già la seconda volta che fa le cazzerielle ok per chi è sub l'ho rimesso sul canale del termo sub wow happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you si era bloccato un attimo ho un attimo più da voce grazie prempa grazie prempa grazie prempa bello che sei eh valkyria c'era un bel counter per valkyria esatto perché per adesso non aveva counter valkyria cioè poteva essere toucher come c'era bisogno di un counter per valkyria ma si non so quanto ci fosse no però effettivamente stanno anche finendo le idee e quindi hanno voluto forse ah se siete tra l'altro diventati sub tra giovedì e oggi ovviamente non avete il link magari scrivete a corn in chat qua gli mandate un emoticon di dei termos così capisce che siete sub e poi lui magari vi manda il link è giallo è giallo è giallo è giallo che furbo devo dire appena ha vinto una fornitura mensile di fusilli eeeh rinvita in inglese scusa perchè io ho citato ma non mi ha inventato non posso invitarmi ma infatti valkyria non era non era non sta zitto esci da sotto non sta mai zitto mi sa parlo di con l'inizio ma tu vuoi te male ma ho capito di parlare con l'inizio stiamo in live non ho capito non è che ti stai lamentando non stai parlando con l'inizio no ma se ti invitarmi non puoi invitarmi e te rientro fine e non lo dire che non me ne frega niente fammi parlare con i miei amici oh non mi ricordo più cosa stavo dicendo adesso niente quindi c'è proprio i video dicevo che valkyria appunto non c'era bisogno di non aveva bisogno di counter perchè non è uno di quei personaggi che quando uno lo prende dice che palle valkyria però in realtà è giusto che anche lei abbia una specie di controparte perchè ce l'hanno più o meno tutti quindi vabbè speriamo che non sia troppo p più che altro quante volte la può usare sta cosa qui come funziona per bene gli altri che sono in squadra con lui cosa fanno c'è disattiva in generale per tutti o solo per lui come funziona quel link di amazon semplicemente voi accedete su semplicemente cliccate lì e comprate da quel link tutto qua per due giorni si comprate da amazon in generale aprite amazon da quel link e poi fate per due giorni siete tra virgolette collegati a quel link lì e ci supportate basta non so se sono il quello più adatto a quei consigli facebook è pieno di gruppi anche frost non ha un vero e proprio counter effettivamente facebook è pieno di quei gruppi per la frost si e di marca si ma frost devi essere bravo tu più che altro a capire dove non so quando escono i nuovi operatori non ho visto la data è partita ce l'abbiamo feci l'hanno detta la data di uscita è partita è partita la data di uscita se l'hanno detto non l'ho letto la season 2 del prossimo anno e perchè ti entanto ce l'avrà più da mark luca alba grazie mille eh no mark sarà un season pass nuovo quello no ma dico no questi di adesso ah quelli di adesso l'ultimo è vero ash potrebbe essere una specie di counter di frost ma comunque appunto frost non ha bisogno di quindi devi essere bravo tu allora voglio usare il shooter lo posso dove siamo nella casa no? si si allora gli italiani dovrebbero uscire verso marzo si e il shooter probabilmente lo prendo cioè io lo prendo sicuro il season pass anche perchè ci dovevo fare i video qui però mettono quelli del marocco così a caso ci dobbiamo fare i video sul canale quindi sicuramente io li prendo si tra l'altro appunto di questi operatori qua che escono adesso a dicembre vedete sicuramente il video il 5 dicembre ok quindi poi faremo il video vedrete tutti i nuovi operatori di adesso a parte che lo prendo comunque anche per le live perchè mi piace il gioco ma mi sa che il nuovo qua ragazzi non posso passare c'è mute con sotto sono si c'è un'altra entrata per andare sotto ragazzi c'è mute eh quella dall'altra casa ma corri corri no caccia no comunque il nuovo season pass mi sa che lo prendo non ti ho andato quanto qua non mi serve più ma ho Machi jammer qua anche qua eh no 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 ok La davanti c'è il gemmer però, eh, occhio 5 dicembre sono diventati Te l'ho detto, poi è passato Astana Gas! Grazie mille per l'anno L'ho trovato! Ok, ho trovato lo Spunkid L'hanno spaccato, chi è che ha spottato con il mio drone? Stronzi No, io ho trovato l'ostaggio Non c'è il drone, mi ho rotto Ah, si! Non ero io sicuro perchè io avevo il mio e ho spottato il coso Moro, non possiamo mettere il mio drone Possiamo usarlo Io, come cazzo? Qualcuno ha spottato Valkyria, non so Io l'ho spottata, ma col mio drone Ma stronto, c'era il mio drone sotto Ma non è vero, ho dovuto trovare l'obiettivo Ancora non l'avevamo trovato Non so, ma ero lì sotto Ma non avevi il drone tu, Moro? Ma si che avevo il drone Ma scusa, si entra col mio E no, tu hai spottato Valkyria E mi ha sparato a me poi A me hanno rotto eh, ha rotto me Poi non so, ha rotto anche te Hanno rotto tutti i DOIS Quelle caglie di sputta A parte che siamo atti... Allora, Spirit, controlla che non arrivino di qua E infatti, volo scendo di qua io Non ci sia nessuno, provo a buttarmi, no? Non è una bella idea, Giazzar Vai, Giazzar C'è frost, non riesco a capire se qui sotto c'è frost Ho rotto mute Si hanno frost Era un po' tonto mute Sì, era frost Paura, Giazzar Ok, vengo anch'io Portate, portate Cosa, da dietro? Hai paura Eeeh, certo Mi ce l'ossaggia Mariottite mi ha ucciso Dai cazzo, cazzo Mi sono morto io Ma come ha fatto a uscire così? Ma dai! In pre-fire è uscito Si è uscito in pre-fire Perché sapeva... Ah, Giazzar Eh ma sono ovunque sono Eeeh, che cavolo Eravamo in posizioni brutte scoperte Mannaggia È stata bravissima Frost, eh Veramente tanto bravo Ma è vero, ma gli spagnoli ci sono Ma come sei dritto? Perché mancano quelli spagnoli E anche portoghese, vabbè Perché dicevano che l'Europa c'era tutta Cosa? Cosa? Ciao Gioannetti Mirajakal è vero, che stupidi Mirajakal sono... È vero, è vero, che stupidi Infatti mi sembrava Mirajakal si è vero, sono spagnoli Mirajakal si è vero, sono spagnoli Mirajakal si è vero, sono spagnoli Mirajal dal lume Sì, non è vero, effettivamente Allora si mancavano veramente Io sono gli italiani e i portoghesi E i polacchi? C'è... E la Li stanno mettendo adesso Ah, è vero, Ella è polacca E anche quella che deve uscire adesso La sorella di Ella La sorella di Ella Esatto Perché c'è anche della lore Un robottino! Non l'ha trovato Ok, l'avete rotto Come ha fatto? Era di fronte Beh, David Bull Qua dovete chiudere ragazzi Se non hai nessuno dell'anno 2 ai c'i giochi Sì, oppa non c'è il pass Chiudere, chiudere Mi sono chiuso di sopra Eeeh Eh, si vengono aperti di sopra Vengo sopra Arrivo Ok, l'avete No, gli pertoni africani ci sono Li metteranno a fine dell'anno prossimo Eh, Alla che non c'è aperto Eh, gli israeliani Non so, forse non hanno dato permesso Anche quelli italiani ci hanno messo un casino Permetterlo Sono già entrati comunque, mi sa Da qualche parte Ok, hanno rotto la telecamera che avevo preso da fuori Un tetto Hanno rotto Vabbè Erano sul tetto? Sì, sul tetto Ma come fai, non fai niente Ogni volta che sparo io Però, porca vacca Ho preso quattro volte Ho sceso il sangue e non c'ho fatto niente Io l'ho shottato Va bene, ha preso la spalla e mi ha shottato Va bene C'è gente qui Questa principale La spalla fa parte della testa E' sprettabile Eh, a quanto pare C'è l'Imbus X, sì L'Imbus X, sì L'Imbus X, sì Moro, prova a vedere Chi sta rompendo qui Buon coglione Ho ucciso C'è ancora una banna C'è Sopra ma Ah, un drone Ahia, mi ha tolto tutta la vita C'è uno sopra? Vabbè Se cade E' morto Mi sparano Oh, da dove? Eh, da dove Dove ha rotto, credo Da sopra Come da sopra? Eh, no, è entrato uno Ah, è entrato uno Lì dove ero io Ok Eh, da dove? Eh, da giù in fondo Eh, ci vanno da alcuni in fondo Eh, va bene Ma perché l'ho gshotto E invece i 20 colpi non muovi? Dai, l'ho buttata giù Eh, ma c'era un'altra Eh, ma c'era un'altra Fastisi Come potrebbero chiamare l'operatore italiano? Non so sa È Gis No, sì, no, ma... Ah, la sigla... Mario... Eh, boh E' Antonio Mario e Luigi sarebbe interessante O Concetta Se c'è una... una donna Concetta Te lo dico io Che concetta, davvero Concetta Gennaro e Salvatore No, Antonio Credo che... Secondo me ci sarà Dino Frassica E Zio Greggio Se mettono gli operatori Perché gli han dato il permesso Quindi metteranno Anche i simboli realistici Ma forza Perché se no non li avrebbero messi proprio Tanto non gli cambiava nulla Mettelo e non mettono Infatti Se scegli no No, no, no Salvatore ci sta Salvatore? Salvatore ci sta Salvatore nella missione salvataggio Vado Se non salveggia lui Chi sa la mappa? Dove sarà l'imbiendola? A Roma, probabilmente Sono sotto o sopra? Sotto Sotto? Sì Mi hanno rotto Ehi, mi ha spaccato a me, strunt Sto correndo Porca vacca Ah, c'è Kimo Ball Vedi se riesci ad arrivare almeno davanti alla porta Non ce l'ho fatta Ma hanno distrutto Vai, Jezar Non spot Eh No, dovevamo spottarlo Invece... Sì, dovevamo spottarlo quello lì Vabbè, sappiamo che c'è Eh, vabbè, ma non ci pensi Sempre Frost Occhio Io riprovo a tirare un altro Anche Valkyra che è in giro l'altra volta Ah, non ci può passare Sì Qua... in questa stanza non c'è nessuno Beh Ok Quanto si può usare il rampino? Ma il rampino per andare sopra Perché mai? Ah, c'è Valkyra qua! Perché so che c'è... L'ho spottata, eh Dentro la porta Eccola, sta correndo via Buona Buona Ha messo delle telecamere qua in giro Vediamo se riesco a sgammargliele Ehi, questo era fuori E niente Dov'è? Cortana poi Non ho detto Cortana Cortana e chiuditi! Dov'è si chiude? Oh Hai not, fammi andare giù a me Aspetta Vai, vai Vai qua sopra Oh, dov'era? Sono sotto all'entrata quella esterna Erano in due C'è qualcuno qua, Marco? Non vedo nessuno C'è una trappola Allora, aspetta no, mi hanno rotto In quella stanza non c'era nessuno Ma stai attendo perché c'era anche una trappola di Frost in mezzo Coperta dai fili L'emico rilevato all'esterno Ti l'ho distrutta la trappola Sì, sono sotto, qui a sinistra Esprit Ma qualche puttana Te l'ho detto Non mi hai detto Adesso mi hai detto Capito Ti ho detto che erano lì all'entrata esterna L'entrata esterna è lì All'entrata esterna che vuol dire? Tipi sotto, sotto le scale dimmi L'entrata esterna E le entrate esterne erano dall'altra parte Ragazzi, ragazzi, non tutto ci vedo L'esterno Ma che spavimento E le entrate esterne, Esprit Se non sai la mappa Mentre le stanzo vuol dire Occhio che di là non l'ho comprensato Ma questo è che l'abbiamo sotto nel scatinato No, e le entrate esterne per andare sotto L'entrate zitti Marco vado avanti io con il ronco. Lo scudo? E' qua in fondo? A metà vita. Sono tutti lì dentro. Con due dentro e metà vita al fondo. Qua si però. Eh infatti, qui ci vuoi. O Mariotti dentro. Probabilmente tutti a destra magari, non lo so. Si è un po' scoperto così. Quasi, dobbiamo andare nello stanzino. No! Jäger o... E' insomma destra, ecco. Jäger. Vabbè. Vabbè, prima ti riscattavo. Normale che arriva una di corsa. Vabbè. Ho cercato di girarmi, ma... Inoltre non voglio dire che è entrata esterna. Ma chi vuol dire che è entrata esterna? La frase che non ha senso, porca me. Eh no, l'entrata che... Per andare sotto, l'entrata che porta all'esterno è già all'aperto quella. Quindi l'entrata nello scantinato che va all'esterno. Capito, se ti devo dire, l'entrata nello scantinato è quella con le bottiglie di prosecco a maturare, capito? Mi dicevi sotto le scale, capivo su. Ma non è sotto le scale. Era sotto le scale. Non era sotto le scale, infatti. Ragazzi, un centimetro, potete smetterla, per favore? Sì, state veramente rompendo le palle. A me, fastidio. Non conosce le mappe, non conosce. Capito, che indicazione. La prossima volta sarò specifico, esperto. Io... Non si potrà fare spawn kill nella nuova mappa? Ah no? Così hanno scritto. Non ci sono le finestre. È tutto chiuso, è un cubo. Probabilmente da dove puoi uscire, da qualsiasi finestra, comunque spawni tipo sotto qualcosa e non puoi in nessun modo... Cioè, in realtà lo spawn kill lo puoi fare sempre, basta che gli aspetti, però è rischioso. No, basta aspettare. Sì, basta aspettare. Però è rischioso perché poi te ne trovi magari tre contro e tu sei da solo e ti si vede solo la testa, quindi sparano anche lo coio coio e ti prendono, t'ammazza. Sì, no, infatti. È sempre rischioso lo spawn kill, sia da fare che da ricevere. No, perché altro c'è... Alla fin fine... Ah, è una torre, quindi si calerà dal tetto e se esci dalla finestra cade nel vuoto. Ah. Che cazzo di torre lunga, eh? Scusa. Torre di piso chiaramente. Torre di piso. Ma è un grattacielo? Sei venuto i due playing in grattacielo? Non ci sono i grattacieli in Italia. Ma non sta parlando di quella italiana. Sì, quella italiana è quella che deve uscire, no? No, no, deve uscire quella... Deve uscire un'altra. Quindi la... No. La lì era in Giappone. E vedi, c'è proprio la gioia del grattacielo, eh? Tu puoi pizzo, vedi? Perché sono un gattino? Beh. Vabbè. Vabbè. Vabbè lì, vabbè subito contro, non ci sono i grattacieli in Italia. Adesso. Fatta che ci sono. Fatta che ci sono. Ma sì che ci sono! No, non ci sono, non esistono i grattacieli in Italia. Dobbiamo proteggere il contenitore di Polizio. Dobbiamo proteggere. Però quella italiana è l'anno prossimo, eh. Allora, l'italiana c'era una villetta in Toscana, c'era... Gli ho rotto il computer, io ero. Può essere una villetta in Toscana... Ah, come mi ha sbarellato la mira. Tra le vigne... Dai, tirati su. Ho perduto, non mi senti. Oppure al Colosseo. Dentro, proprio. Ecco lo seo. In mezzo ai... Che non ci sono le finestre, non c'è niente. Ho rotto una telecamera. Chi è Frost? Non c'è? Nessuno, ma... Perché era comodo metterle o qui o all'altra entrata, lì. Magari ci cascano sicuramente se entrano di lì. Da uno, dall'altra. Io devo rinforzare, aspetta. Intanto magari gli metto un pistolo... Gli metto questo in un Q. Ecco. Sistemate Capcan, mettiti tutte le belle per bene le... Oh, 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 oh. Corro, corro. Oh, oh. Eh, no, gli ho messo un bruglio. Mi faccio una casetta. Lì, 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 lì. Vedete, poi siamo in situazioni critiche. Eh, Pathfinder molto probabilmente domenica. Poi dopo vi daremo meglio informazione, ma dovrebbe essere domenica. Beh, hanno rotto tutte le telecamere. Bravissimi. C'è quella di fuori, ma... Probabilmente entrano di qua, comunque, eh. Perché non vedo... Sotto sinistra, sentito, eh. Non vedo... Gente qui. Intanto rinforzo, Marco. Bravo. Sotto qua a sinistra, comunque, eh. Vedi attento. Sotto. Ma io sono sotto sotto. Sì, infatti è arrivato. Fatto esplodere qua di piano. Ah, c'è un robottino. Distrutto. Occhio. Mi ne esploso. Non vedo nulla. Non ce n'è scoperta. Non vedo una sega. Quante, quante ne sono? Eeeh, madonna. Abitivo contesa, ragazzi. Oh, era qua. Ma esprit di merda. Ma come ho fatto ad entrare? Scusami. Dalla finestra? Eh, ho capito. Si è fatta tutta la mappa e è venuto da me. Come ho fatto? Eh, ti abbia... Eh, dai. Eh, la madonna. Me l'aspettavo mai. Che cosa? Che cazzo. Spopo Frizzi. Nessuno sta donando e quindi dono io e vi palpo anche in maniera sgargiulla. Grazie, Spopo Frizzi. Gentilissimo. Grazie, Spopo Frizzi. 20 euro, gentilissimo. Ha avuto questo scudo, ecco perché me lo vedevo. Eh, ma era ovvio che c'era. Sì, perché mi ha ucciso a me. È entrato, ha scavalcato, mi ha ucciso. Vabbè, era un po' stordito. Ha ucciso sia a me che a Marco. Ci sta sta musichetta sotto Remusix? La faccio ripartire, guarda. Eh sì. La 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 la. Tire, 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 tire. Che sturbo, dice comunque chiaramente. Nessuno sta donando e quindi dono io e vi palpo anche in maniera sgargiulla. Eh... Grazie, Spopo Frizzi. Sei molto bello. Grazie mille. Ma pure quello mi hai ciulato. Allora io spacco tutto. Vai, spacca tutto. Spacca tutto! Spacca tutto! Lo zio del tuono. Oh! Io spacco tutto! Spacco tutto! Spacca tutto! Che svapo! Aia! Ho dato una botta! Ho acquistato Remusix a 8 euro. A fine del load up mi esce scritto che la scheda video non sopportava il gioco. Chiedo il rimborso, secondo voi... Eh, ho cambi la scheda video. Eh, ho cambi la scheda video, sì. Eh, ho cambi la scheda video, sì. Ho chiedo il rimborso. Cioè, se vuoi giocarlo tienitelo nella libreria. Non lo so, 8 euro comunque a buon prezzo. Sotto, mi hanno distrutto dalle scale. Io ti consiglio di tenertelo nella libreria e poi appena c'è la scheda video. 8 euro, infatti, non serve a chiedere il rimborso. Se in prospettiva hai di cambiare la scheda video. No, infatti, per chi lo volesse, c'è in offerta adesso a metà prezzo. Quindi 8 euro la versione base, oppure 20 euro la versione... Quella con tutto l'anno 1, penso. Con tutto l'anno 1, in teoria, sì. Dai, porca vacca adesso! Eh, me l'ha rotto. Stavo per colpire Caveira ed è finito il tempo e mi ha rotto tutto. Ok, è possibile Sponkill? Ah, poi, io non mi fico. Guarda che difficile, però. Ce n'è uno, ce n'è uno! È dall'altra parte. Ah, è dall'altra parte. No, è dall'altra parte. Via zero, aspetta che entro. Quanto duro stai andando, aspetta. Moro. Beh, solo perché puoi rompere non è che lo devi. Eh, però scusa, non rompe bene, devo dare 3 martellate per rompere. Io spavento in 8. Sono io, sono io. Provo andare a fizzare lì sopra. No, si possa. Sì, sì, vai vai intanto. Ora la smetti? Qui ho rotto bene, ho rotto. Sono stato individuato. È perché questo è legno. Ah, scusa, la telecamera è qui. Era là sopra. L'ho distrutta. E attunga carica a grappolo! Dove c'è qualcuno qua intorno? Ah, mi rompi, Jezzar! Non riesco a entrare lì. In teoria ne sono grande, eh. Non so se rifiutare o no. Prova. No, ma non ho preso niente. Allora fammi spaccare. Non sono riuscito a far niente con Twitch che... C'è lo scuro. No, entro dal garage, io. Beh, dovrei andare sotto, eh. Però c'è un laserino qui su. Aspetta se è rifiuto su una bottola, occhio. Guardate dove sono io. Qua è questa bottola, comunque. Vai. No, ma non penso che sia nemmeno. Ho fatto zero, no. C'è gente che sta... Ah, faccio l'ultimo, faccio questo. Aspetta, Jezzar. Ok. Forse c'è gente sopra, eh. Merda, sì, c'è sopra. Eh, non ce l'ho fatta. Potremmo per uscire. Credo sia Cavena. Cavena mi interroga. Niente. Siamo morti, Marco. Ho precolpito con un prefire a cazzo. Cazzo, c'è uno sotto con uno schivato. Ok, se ci arriva dalle spalle, in teoria muore. Ok. Allora, ce n'è uno. In fondissimo. Sì, l'avevo visto prima. Ma... mamma mia, eh. Ho ucciso? Eh, ma veramente veloce mi ha ucciso. Che era Elam. Ok, ho ucciso Cavena. Quanti colpi. Stamattina non ci può vincere. No. No, vabbè. Ma io solo voglio... Hanno nerfato Elam, ma è comunque allucinante quel fucile lì. Quanto costa il season pass? Eccolo. Vabbè. Un tappeto trappola. Eccolo lì a destra. Guardalo là. Ho territo. Dai, è morta? No, non è morta. Guardi i piedi, guardi i piedi. È lì, lì. Guardi i piedi. Buona. È andata. Qua Marco, occhio! Non sono io, non sono io. Chi è? Chi è? Esprit. È tornata indietro. C'è neanche una sinistra, Esprit. Qua c'è un nome che è morto. Ok, ti controllo io fuori. Ti controllo io fuori. Ti controllo io fuori. Buona, buona. Ok. Ah, grazie a te. No, non mi interessano gli oggetti. E non ho punti sufficienti per sbloccarli. Sì, oggi mi fulminano appena mi guardano. Come vorrei con gli italiani. Guardi, le kill che sto facendo le sto facendo perché vado in prefire di mezz'ora. Perché sennò mi sparisco appena mi guardano. Lo metteranno a 20 euro. Vabbè. No, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Eh sì. Eh sì. Eh sì. Comunque sì, no. Ho saldato il 2. Tanto, bene o male li ho sbloccati tutti gli operatori. Ma io no, fuori. Mi mancano i 3 nuovi. Mi mancano. Quattro che si mancano. Mi viene giocando. Sì. Eh, ma il problema è che ce ne vuole 25 mila all'uno. Eh. Eh. No, no, no. No, no. Non ho senso. Stagione 3 la prenderò. Tanto comunque ci giochiamo, quindi. Perché 25 mila sono troppi. Piuttosto shop. Eh. No, parlo. Piuttosto prendi il siso pass. Vedi. Com'è caduto nell'inganno del marketing. Non c'abbiamo il mute, vero? Ho capito, Moro. Beh, però sai cos'è, Moro? È un gioco... Un gioco così del genere che viene comunque supportato tanto ci sta. Ah sì, che ci sta. Altro per un DLC che costava tiro per una mappa, no. Ehi, ehi. È proprio pieno di uso. Dai, quel po' di roba. Dai, quel po' di roba. Dai, quel po' di roba. Ma l'hai riuscito poi. Ahia, ma c'è Twitch. Ma siete dei cretini. No. Eh sì, che c'è Twitch, ma hai compito. Eh, non l'ha... Ok. Guardate... Ehi. L'avete distrutto? Poi sono sempre li stessi. Sì. Sì, sì. No. Un gioco del genere... Tanto non credo ci sarà mai un seguito di sto gioco. Sarà sempre così. Beh, non è detto quello. No, faranno sempre anni così. Non ha senso fare un seguito. No, perché stanno già finendo le idee di Ezra. Quindi secondo me... Cambiano idea. Non fanno due. Un Rainbow Six Siege. No, un Rainbow c'era già, eh. Sì, ok, ma... Questo l'hanno supportato per anni. Possono semplicemente fare un nuovo Rainbow con nuovi motori grafici. Questa! È terra da rose! Un euro e 51. E dice ciao! Grazie! Grazie! Ciao anche a te! Allora, forse ti leggevo in chat spesso. Magari l'ho visto dagli altri. Mi ricordavo che... Vabbè, comunque benvenuti! Benvenuti! Ah sì, posso dire... Hanno già distrutto tutte le telecamere. Io ve lo dico... Mi esposo alle scale! Non c'è scale! L'ingresso principale, c'è montagne e anche altra gente. Qua. Ho venti di vita. Non si può uscire di qua. Torni almeno in due nell'ingresso principale. Eh, non riesco a colp... Eh! Da dove? Ah, da fuori! Dalle finestre fuori. Eccolo! Qua c'è Blitz! E qua c'è Ash! Sono tutti... Da questa parte mi sa arrivano. Ehm... Ma giocando è possibile sbloccare tutto? Qualcosa devi per forza pagare? No! Mi ha sciuttato! Io l'ho liberato prima di lui! Ho sparato in testa e ri... Abbassato a tiro... Eh! Anche lui l'ho abbassato more! L'ho rivelato che ha fatto un spunto di vita! Ah! Bene, David! L'ho liberato a shottarmi! Sì, queste cose... Esatto! Forse da quel capello! Lo sento muoversi, moro! Eh! Lo so, è qui! Sì, si vedrà comunque... Mi hanno individuato! Non peggio che vanno comunque un... Tutti dei Rainbow Six, non ha senso! Per chiudo bene! Eh... Tirare cose di notte non? Vabbè! Vesci prefile, moro! Eh, è corso via eh! Qui sopra! Un altro robottino eh! Un'altra marca! Sopra Dai Dai Cioè non è possibile che shottano Non è possibile che oggi shottano Appena mi vedono Ti vede da Ho visto il laserino dell'arma e basta La testa è uscita Mark Eccolo Ah non puoi ucciderlo Che brutto Sarà parlando l'obiettivo e devi entrare Non so Eccolo Eh c'era anche l'altro E' tutto E comunque Spondendo un po' le domande Sì Caveira era il mio main Tecnicamente sto gioco puoi Sbloccare tutto giocando Non serve a pagare nulla Poi ci vediamo un bel pop Dovete giocare tanto Ci sono gli operatori base Che si sbloccano Ma tranquillamente Potenzialmente tu puoi sbloccare tutto Tutto qua No ma quelli basis Perché tranquillamente E poi visto Mark Ha detto ieri Durante una conferenza E' sblocato fino al 2020 Verrà aggiornato fino al 2020 Quindi sono altri tre anni ancora Ci hanno idee Io lo spero Eh ma presumo di sì Se dicono vuol dire Che hanno già le idee Per gli operatori Sì ma non è detto Che siano belle idee Eh quello non lo so Però vuol dire Che comunque almeno Fino al 2021 Non ci sarà un seguito Contratti che non è che Dopo una settimana D'operatore Andranno tutti quanti Perché iniziano già a farli ora Comunque No no Ma l'ha fatto proprio Le idee come gameplay Magari mettono Non è che Cioè vedendo la storia Di questo gioco Stanno facendo una cosa buona E una cosa orribile Una cosa buona E una cosa orribile Quindi io non è che mi fido più di tanto Ma comunque sicuramente I più figli operatori Dell'anno prossimo Sono già fatti Eccoli mi hanno rotto Niente anche quei robottini Mi shottano Appena mi vedono Non è possibile stamattina Comunque fino al 2021 Vuol dire che non ci sarà un seguito Quindi 8 Basta Io ho provato a svignare Perché già mi ha visto Il robottini Mi sta inseguendo Da mezz'ora Ma come cazzo Mi ha visto E l'Ogito al Pond L'ha preso Che altro bisogna sperare Che la gente Rimanga a giocare Per tutti questi anni Perché magari la gente Poi si stanca Vabbè ma in verità Finché Continui a fare Mappe nuove No ma poi anche Comunque lo spuntano Anche spesso Ma sei montagna E' scemo E poi comprarlo Di 10 euro Ma sei gente nuova Ma che ci han visti eh Occhio lo spunti Fanculo che ci han visti Un montagna Comunque ma anche io Ho il rupo signerato Quindi puoi Ma non è No 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 Hai udito la colonna Con robottino Ma si ma non Sei andato Ero con lì Era il netcode Ed è di un livello 15 Quindi non può Come fa si fa così bene Che poi inizi a giocare Ma non significa niente Magari Magari è bravissimo a mirare Cioè forse Esatto Non è che mi prendo qualcosa Segnale se non è vero Facciami Eh no Ho sparato Perché se sbagli Se sbagli Non è che mi rompono i cuglioni Eh sì Io poi secondo me l'ho fatto Perché già mi hanno notato una shotata Mi ha shotato di nuovo Cosa non va Perché saranno Ehm c'è capirà qua Anche perché Gli ho sbagliato prima Vabbè Dov'è Lì a sinistra I not Nel corredorio Aspetta Poi lo spargli io Non è più quattro Era qui dentro O era fuori O di che senso Qua non è più Aspetta Sono stato individuato Nel road Ah c'è gente qua Vogliamo scendere Moro Eh guarda Sto sotto è Moro Moro Ragazzi io non so cosa dire Non so cosa dire Non so cosa dire Non dico nulla Facciamo così No ma non voglio dire Cos'è successo No Non voglio dire cos'è successo Moro E da solo non faccio niente io Medico E vieni da me Ah vuoi scenderti là E lì sotto E lì sotto è il medico Ma lo so che è lì sotto Ma non posso fare niente No drittavante te Di sotto c'è la porta Per scambinare E' sprint Eh mi hanno ucciso in otto Ero dietro di te No perché non è quello in otto Era sotto di voi Aspetta Vieni dietro e tirami su Mi ho sparato in testa Mi ho sparato E c'è la di fianco Mi ho sparato Vai nell'angolino E otto Sì ma gli ho sparato Oggi non si può giocare oggi Mamma mia che merda Ma non è che sempre stanno male Purtri e venti Perché anche prima ha fatto Ma sì ma se vanno male per noi Vanno male per loro E ha fatto tutte le volte il segnalino Sì quello è vero Ma quello lo fa sempre No barrumeria Non dir cagate Cioè non era preciso Ma l'ho colpita veramente ovunque Non è vero Non è vero Una bugia Quella che stai dicendo Ma poi anche l'altra volta È come se volessi sempre giustificare Ogni cosa che succede nel gioco Non puoi giustificarle queste cose Barlumeria Non puoi Cioè c'ho 500 ore su sto gioco C'ho 500 ore Lo amo alla follia E lo odio anche alla follia Bisogna essere obiettivi con queste cose E lo odio anche In testa lei Subito Cioè Sono un 50 mm a focale fissa Allora Purtroppo devono essere Ma questo è un obiettivo Moro E ha uno di corazza a cavera Tra l'altro Anche perché prima io Ho liberato Ash E lei ha sparato Sì ma anche io Anche io ho fatto Cioè Ero dietro le note Ho mirato benissimo la testa Ho sparato E non l'ho colpito Anche Moro Ma anche Esprit Prima L'ho visto Lo stavo guardando Cioè Ci sono cose Che non si possono giustificare Tutto il resto Mastercard vero? Esatto Vero Esatto Sono il primo che ama questo gioco Però bisogna dire le cose giuste Bacciare la mamma È molto molto bello come gioco Secondo me Perché se lo sistemassero Quello è probabile Le gioche Mi sto anche aumentando Tipo del nuovo codio Ad esempio In realtà in questi giorni Sto facendo le pezze Anche quando gioco per i fatti miei Arrivo a 8 kill 9 kill 10 kill Non sto giocando male In questo periodo Mi sono già ripreso da un pezzo Però queste cose Non ci posso fare niente Proprio è Succedono E niente E va bene Ma per me è che una volta non era così All'inizio non era così Eh vabbè ma adesso mi sto Ormai mi sono riabituato So abituato al nuovo modo di giocare Ma scusa Mastercard collegata a Paypal Vabbè si può usare fatti La carta Mastercard Non è anche la carta Però hai troppo lungo da dire Quindi La carta Paypal È una Mastercard Lo sappiamo Ma c'è su PS4 Sì No Cosa? C'è che c'è Ma lo sappiamo comunque Fennecro se giocavi o no Tutti gli youtuber Più o meno Famosi tipo Gabbo Così lo giocano su PS4 Ma non è vero Barlumeria L'ho colpita sempre Non l'ho presa in testa Ma l'ho colpita sempre C'è sempre Magari qualche colpo Sicuramente non è andato a segno Come al solito Vuoi per il netcode Vuoi per mancanza di mira Però lei c'ha uno di corazza Ed era ancora viva Quello non è normale Guarda che si è abbassato Non l'ho preso Che cacca Qua ho smirato per esempio Non l'ho preso E' andato avanti È che ho sparato Sono il miglior sparatore Anzi però dai I grandi punti Chi è moro I grandi punti Ti ripeto Non l'ho presa con tutti i colpi Sicuramente Ma uno di corazza Che era Uno I grandi punti Dai pensate Ehi I grandi punti Ehi 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 Ah morò Vieni con me Dai che gli apriamo il culo Qua Va bene Apriamogli Chiama Garage comunque I not State individuello Occhio Gli apriamo il culo là C'è la telecamera Quella in fondo di là Sì salvadores Purtroppo è così Ma anche adesso che sto andando bene Non è che sto andando bene Perché hanno sistemato il gioco Perché mi sono abituato A questo gioco nuovo Non posso affiuzare Sì Salvadores Devi di abituarti All Eh esatto Cioè Non è che è migliore Mi sono abituato a la merda Sì puoi Si può Dello spiraglietto Sì sì Aspetta non la calo da là Vuoi risalire va Mi sono caduto col drone E' fatto una cagata E qua uno qua uno Qua c'è uno eh Qua c'è uno Ho testa a porta Ho visto i piedini Che facevano Ziggulini Ziggulini Guarda Facevano espre Devi stare Morelli Aspetta qua c'è una telecamera Gli la rompo per sicurezza Provo a correre in giro Poi provo a romper la porta Hai notte Che dici No Questa E' terra da rose E' da junior Vedi che da un'ora e cinquanta Dice Buon salve Torno dei festeggiamenti Per i ventidue anni Che da venerdì a domenica sera Puntini puntini Ah non posso salire lì Comunque sia Ammetto che disegnare con espre Che Borbotta e Marche si incazza Insolitamente si sta rivivendo efficace Marco ti do ragione Shotano a caso Ma io ti ho detto Sono il primo che ha amassato Qualcuno ha fatto esplodere qualcosa Ma ci vuole da dirlo Qualcuno ha fatto esplodere qui Eh non vedo Non so E' caduto E' notte vieni a spaccare anche qua Sì Porca vacca Dov'era? Non so dov'era Esprit Sì Lì dentro Aspetta che non ti vede Eccolo Ok morto Ok Ce n'è uno lì Orca vacca Sono lì dietro la cosa corazzata eh Dai Non è possibile però eh Cioè Moro hai visto? L'ho ucciso a caso L'ho sopra L'ho ucciso veramente a caso Non ce l'ho fatta la Qua sto smirando da morire Vabbè tranquillo Vai Esprit E almeno Te ho spiraglio con il vento E lì a destra a destra Non lo prendeva lì Ti sto ucciso da caso Non l'avevi ucciso allora Ora era un altro Vabbè Un altro Un altro Arco Che ansia Da là Esprit Non puoi Sopra Sì probabile Vabbè Sopra Sopra Ah vero Abbiamo vinto Quello era a smirare Quella è la prima volta che gli ho sparato Gli ho fatto la sagoma Sì quello è vero Parlumeria Comunque Vediamo Diversa a volte Però Si dice No Parlumeria Io ti capisco Tutto quello che vuoi Però C'è tutta la chat Là dentro Non è che l'ho detto Fossi io Il mongoloide Ok Cioè L'ho veramente Crivellata Lei che c'ha uno di corazza Lei niente Ha fatto tatà E sono morto Quanto vuoi che mi ha preso in testa Va bene Ma doveva essere morta Prima di sparare No 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 Lei è rimasta con uno di hp E io l'ho presa L'ho presa assolutamente Perché l'hanno scritto anche in chat Non è che non sono immaginato Però lei ha uno di corazza Io l'ho crivellata Lei ha fatto tatà Quel tatà mi è arrivato in testa Ma doveva già essere morta da prima Ma tatà Ah devo prendere caveira ragazzi Eh niente Vabbè Nessuno vuole giustificarti Io Semplicemente però Quando vedo che il gioco non va bene Mi girano Poi si spara uno E poi muoio perché Mi ha lasciato un colpito sulla spalla Mi dà anche fastidio Ma Frost Prima mi sono innervosito tantissimo Ma perché mi ha ucciso Ed è stata brava È stata brava Oh Ah c'è Twitch Ha rotto le Capcan Ha rotto il Capcan Che palle Che pesante L'ho visto entrare qui dentro Gaust Grazie mille Grazie Gaust Dove l'ha rotta? Ah eccolo L'ho rotto il Twitch Ah ha rotto quella Che avevo messo lì Aspetta la rimetto Aspetta questa la sposta allora Marco Se no mi distrugge la trappola Ah no ma mi ha rotto quella Mi ha rotto Aspetta la faccio una cosa Ma spacchiamo sto jubo Basta Twitch Dov'è? Eh niente Mi ha rotto un altro cacca No Nessuno qua Ah Come facessi perché non è la scusa? Avrà visto Aspetta l'ha visto con il robottino Grazie Era appena arrivato io Letteralmente Vabbè Culo Grazie Nikita Tricep Hai deciso morelli? Sì Io zero sopra Possono provare No io ho permesso questa cosa bruttissima Comunque Un po' che butta Un po' che butta Ok Non so che ho ucciso però amici Sembrava Twitch Qua da me Qua da me Eh c'ha lo scudo di merda e mi ha tolto tutta la vita Arriva ora arriva Ti faccio il giro di lato Dov'era? Eh sopra qua Ah Pallo Dimmi te però Guarda Guarda Secondo me Uno l'avevi colpito Sembrava già Doveva essere già morto Secondo me All'inizio gli ho colpito lo scudo Ma poi ho alzato la mirente Era in testa Però vabbè Magari mi sbaglio Magari Ehm Non si scrive il rueno Vabbè Lo farei quasi Mette la tastiera russo No non faccio Taccio Beh Marco Anzi IQ No no Faccio taccio Hai chiulo Panna o termite prendo Per cui anche termite forse Sì possiamo provarci Prendete un di 20 tirato Sì ma ragazzi lo so Purtroppo I problemi di Sono nel garage Sì I problemi di cose ci sono Ma posso Grazie No mi fa piacere che lo state dicendo tutti Perché vuol dire che non sono diventato matto Almeno quello Sì ma No No Poi E' il primo solo perché sta spottando sempre lui Anche io Guarda che schifo Fate caccare Lo faccio anch'io Lo faccio anch'io Allora Guarda come in tutti i giochi deve essere scorretto E' il noto Ormai è diventato un barone Fa caccare ormai Ma perché vai 1100 e qualche modo Io lo sto facendo adesso Ma io una kill l'ho fatta almeno Io non ci ho fatto una kill Ed è stata la kill che ci ha fatto vincere Amici Quindi non rondevano Ma sì eravamo 6 contro 1 Sì sì saranno il last Ci ha fatto vincere quella kill Basta Sì e i rainbow si gioca in 5 Guarda la Guarda la scontata che a me testo erano un oro Che cacchio di cacchio Che succede qua? Dei simi rollin Dei tettin Ti tiri ti tiri ti tiri Ti tiri piri E' rifiuto come prima vedo Blizzard Aspetta Morelli sei un cretino C'è un cazzo la cittura? Ahah Il toccio che vuole L'ho individuato Ma te che me l'hai visto Morelli Non sa Non sa Cosa mi dici? Esprit c'hai da distruggere lassù Va bene Esprit il prossimo è sei che l'ho ucciso No io voglio vederlo Tu quello lo distruggiamo in 8 Ah Liezer aspetta 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 Ah ce l'hai ok Perfetto Vai Tanto io vado all'altra parte Tu Mark segui È un po' anche qua Liezer Io fuso Fuso Allora qua c'è Io sono stato individuato intanto Vabbè non c'è bisogno di metterla qui adesso Ah la va Ok Mark sulle scale qua Nooo Ci ha fregati tutte e due Vabbè vabbè Ci ha fregati completamente E' stato bravo Bravissimo Vabbè non stai colpendo lo sai Agia Ok Tu non stai colpendo struns E' che sotto eh Eh si ma non capisco se c'era uno sopra E' quando la vuole non uscire E' là Ce n'era uno o no sulle scale Eccolo infatti E' che cazzo Io ho Prendete se uno due volte E non è morto Quella è una ruota Una ruota Appena che c'è uno scudo però Lì Ehi ehi Lo so C'è uno scudo? E' stato L'ho già ucciso quello là Ah ok va bene Uno è là No è morto quello Non ha uno sopra Che ti fotte Ti ha voglia Posso io vado più indietro Eh Sfida di Mark Ti spara i giri C'ho già quattro persone pronte Sì deve solo essere fatta Solo che chiaramente Devo stare loro Sì Sì Sopra Sopra Ancora Che ti sentono Oggi esce il Thermobester Che è Metà mese Comunque Sfida di Mark Guardati abbiamo fatto un video Sul canale dei Thermos Dove Dove Cose da guardare Moro qua tutto roto Occhio a sinistra Ce n'era uno sulle scale Sì E' quello che ha ucciso me E' not con la C4 E' anche me Anche me l'ho ucciso Eh è stato bravo Molto bravo Ma è sopra 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 i temori Per il giro No così piano però Eccolo Mamma mia Ok Ma c'hai poca vita Non caricare Non caricare Guardati sui piedi Ti tirati su da solo No non ve lo dico chi è Però uno Probabilmente non ve lo aspetterete mai 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 proprio Mai mai No non ce la fai da qua Moro beccato Ti becca prima lui Entra entra Bravo che guardate Che casino Ma si sentiva veramente Un macello Si sentiva Eh ma davvero In tre C'era gente che si strusciava Contro i palli Un culo Ho visto uno Che con il culo Sì si stava grattando Sì si stava grattando Sì si si Lo so cambiare Vabbè Ron ho detto che se Se sfido Ron Lo faccio come ultima persona Ron Quindi non è Ron Quello ve lo posso dire Ron ci sarà Alla fine Di tutto Troppo male per farne altri Marco Un paio ci potete arrivare Perché poi il tuo culo Fa troppo male per farne altri Ah Mark Mark Prendi cavi i ratti Ah stia è vero Mi dimentico se Togli Prendi i ratti Non fa stasera Non ce la voglio Ron ci sarà Vai via Cianca L'abbiamo sentito Due mesi fa Però si due mesi fa L'ha detto che sarebbe Che stai facendo Perché Perché Devo organizzarla bene Con Ron Non voglio farla Come le altre Perché lui Te Porca vacca C'è chi è un'Italia E' lui Dove stiamo andiamo Marco E beh si Forse no per capire Che segui Regolarmente Le live Due droni Gli ho rotti Qua Sì Segui i twitch E Avevo che hai visto Già tutto Tre droni Gli ho rotti Ma raccolpati così Anche bello La sfida sempre su mv2 Non è detta In realtà C'è Vodarsi lo facciamo anche sull'ultimo code Adesso vediamo Qua 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 Vediamo un attimino come No Marco non pado sull'ultimo code Vabbè dipende Poi dall'altra persona Dall'altra persona mi dice Guarda preferirei di qui E dico vabbè Ma in realtà nell'ultimo code Vodarsi che ha giocato Con la partita personalizzata È medico Probabile Sì Nessuno ha un muretto Dove? Da mettermi qua davanti No il muretto Sto facendo una cagata Perché li sento qua vicino Qua non abbiamo Chiuso però Dove? E qui è bene chiudere No vabbè Quello ho murato eh No Nel tunnel dì Sì no Nel tunnel Quelli ho rinforzato le cose fuori Nel tunnel Non c'è da rinforzare Cretino Il tunnel lì Sì Ok io ho capito Ok io ho capito Ok io ho capito Quanto casino Ma non erano qua Dove sono? Al garage No è notte No è notte Non passano davanti Al garage sono È una botola Non passano davanti Mai vista questa botola Perché uno è morto Alco? Sì Non credo di avergli fatto neanche da Ma non mi ha ucciso quello che mi stava sparando Sì erano in due Sì erano in due Ho sentito qualcuno che è sceso da qualche parte Sono sopra allo strip club Adesso stanno sfondando la cosa che avevo messo io E' che si è buttato su qua Non ho visto L'ho spottato uno eh No si era buttato davanti a te Non ce l'ho riuscito a sparare Mi stanno sparando dall'altra parte Grazie hanno rotto Dove ho spottato prima Eh non c'è più lo spott Eccolo lì Ho 13 di vita Levate da sto collo Non hai copertura Beh uno l'ho ucciso Guarda dove sono Guardate dove sono Lo spottate Guardate perché poi non posso più Sì sono due sopra lì Devo uscire l'ho tanto Giazzar potevi mettere i fili Così sentivi Il rumore Eh lo so Coglione Perché non dovrei stremare io Perché ho betta way Ho preso la mina Ho voluto qualcosa Non so cos'era Ti vuoi spusare la mina Lì alle scale Sono lì Non vuoi che stremmo Sì sì Spusare la mia mina qua lo so Sì hanno preso anche le mie spine Buona Questa bottola qui Fai il culo Andate Ma stai tranquillo Tranquillo Ma Esprit Lascia andare avanti Tanto c'è anche la mia La mia cosa Non C'è anche un'altra Ciappolina mia lì Puro Ma gli operatori marocchini Più che altro non so cosa aspettarmi Non ho mai sentito Di operatori marocchini Gli israeliani che di solito Sono famosissimi Guarda che forse lì non hanno permesso Proprio per metterli in maglia Tu la botto la di azzer Hai visto poi le testa No so ho visto E vai via Qua erano in due Era giusto che Guardissimo La giusta la kill E qui mi servirebbe Che magari quando tu non mi spara No a di azzer Non lo farò No non rischiamo Hai preso 7000 punti Con lo spot Puoi farlo Punta non lo farò Vai lì in fondo Ma lascia non passare Eh ci passai Sono usciti L'ultimo spot E' noto Venga ci passano E' noto E' noto Quanto hai aspettato Per lasciarli passare E' sempre lì l'altro Dai Caccia Andrei Io c'ho la 100 mega Ottimo detto Giusti giusti No ho aspettato Perché pensavo Morissero Per quello Ora che schifo E' noto Che primo Con tutti gli spot Io ho fatto 7 kg Guardateo Troppo E' noto Guarda che sono punti In più di Yezor Che fa Che fastidio Come hai fatto Farlo di spari Poi così Troppo fa E' con i ban Guarda ti ho censurato Non ti ho fatto vedere Ma che bravo Che sor Guarda Mamma mia 30 punti in più 35 punti Dai abbiamo Il pacchettino Dai Dai Tiri 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 Aspetta fammi vedere Dai non mi ha fatto vedere L'ho preso Non l'ho preso Che è che è uscito Yezor Bastardo Voi siete belli Io Io non l'ho preso Al 20% Amici Noi vi ringraziamo Per essere passati Anche questa mattina Ci vediamo stasera Vi mandiamo dei bei bacini Nella bocca Chiaramente Perché nella bocca Oggi mi raccomando video E stasera live Eh si Esatto 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 Aspetta Aspetta Vediamo nessuno Vediamo qualcuno Cribbio Tanto qui Siamo qui ancora per tre minuti Poi come mangiate voi Andiamo a cercare nel Twitch Sempre music La musica è sempre bello La musica è sempre bello La musica è creativa Prendiamo un canale italiano Varelli Non ci sono gli italiani Che prendi un canale italiano Non esistono Perché altre tu non la trovare Adesso Tutta caccata Però non so Vediamo cos'altro c'è Ma per fare un italiano Non a caso Ma non la fa la musica Gli italiani Eh Possiamo cercare Eh te l'ho cercato Ero già italiano La musica non la fanno Pronti Fate la musica in Italia Che io vi ostolo Che bella Che la musica Scusa la musica Per ristare Eh ma la musica è bella Scusa La musica a pranzo Ci accompagna Vediamo C'è anche una signorina Accompagnare solo la musica a pranzo Comunque Vediamo il canale italiano Più piccolo che c'è Vediamo questa qui Cosa fa Suona Suona il violino Però non è buona Magari se gli portiamo gente Diventa bravissima Una volta cambiamo E ostiamo uno un po' più famoso Da che cazzo serve Scusa Questo qui canta Questo qui canta Fatta 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 Canta con un riverbo incredibile Con un riverbo incredibile Voglio sentirlo Allora aspetta che non lo so scrivere Forse l'ho scritto bene Forse l'ho scritto bene Fammi controllare E anche forse l'ho scritto male E scrivetegli E gli scrivete Siate educati sempre Mi raccomando Come sempre Non fate mai i cazzoni Perché poi La fanculo A parte che veniamo di là A controllare cosa scrivete E scrivetegli Viva la pasta col pomodoro Che palle Quanto lungo Semplissimo Allora Marco dimmi tu Pomodoro scrivetegli Che è più corto Vai va bene Niente ci vediamo Ciao amici Grazie per E per le donazioni E anche per le sub E anche per essere qui E anche per essere sempre come siete E se comprate dal link di Alad Esatto Grazie Se volete supportarci Link di Amazon Che trovate nel sedere di Korn Ciao amici Ciao